Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del volto del ring dove andremo a fare le analisi di WWE Hell in SL che si è appena concluso da pochissimi minuti cominciamo col dire che è stato un pay per view che poteva finire bene, poteva essere definito più che sufficiente, buono magari da 4 stelle, 4 stelle e mezzo su 5 se vogliamo dare una valutazione match lunghi, ciascun match è stato lungo, bello e interessante se negli altri pay per view abbiamo visto troppi match, tutti troppo corti stavolta abbiamo visto meno match ma molto più lunghi procediamo con ordine perché se devo partire dal main event ragazzi qua chiudiamo tutto e ce ne andiamo a casa partiamo dal kick off i New Day hanno mantenuto con successo le cinture di coppia di SmackDown contro Rusev e Aiden English che dire, mi auguro che ci sia una rivincita tra queste due fazioni perché Rusev e Aiden English sono arrivati proprio a un tanto così dalla vittoria quindi speriamo che possano avere una rivincita veramente un bel match peccato che fosse stato messo nel kick off comunque ragazzi io continuo a non capire il senso del kick off onestamente un kick off che dura un'ora dove ti mettono magari uno o due match soltanto che durano una decina di minuti non lo so secondo me l'ora del kick off potrebbe essere utilizzata meglio parere mio poi non lo so passiamo poi diciamo al primo match della card si parte subito col botto Hell in S.L. match Jeff Hardy contro Randy Orton la grande faida tra questi due ormai veterani da WWE faida che si è conclusa con una vittoria di Randy Orton Vittoria che è arrivata proprio in un momento in cui Jeff Hardy sembrava ormai aver vinto il match stava per eseguire uno splash dopo essersi arrampicato su una scala in cima dopodiché si è afferrato le travi sotto al tetto della gabbia per lanciarsi da un punto ancora più in alto per eseguire uno splash su Randy Orton che era a terra sopra il tavolo Randy Orton che riesce a spostarsi all'ultimo Jeff Hardy cade da un'altezza incredibile si fa davvero tanto male finisce così il match e Jeff Hardy che viene portato via in barella come vi avevo detto nei pronostici secondo me questo potrebbe essere stato uno dei suoi ultimi match in carriera poi non lo so è stata veramente una brutta botta questa bisogna vedere nelle prossime ore se ci sono aggiornamenti sul suo stato di salute comunque è stato veramente un grande match mi è piaciuto non me l'aspettavo così bello e anche così violento passiamo poi a Charlotte Flair contro Becky Lynch valevole per il titolo femminile di SmackDown sorpresa della serata Becky Lynch è riuscita a strappare il titolo a Charlotte grazie ad uno schienamento molto roccambolesco sicuramente ci sarà una rivincita tra le due questo è poco ma sicuro a fine match Becky rifiuta la stretta di mano di Charlotte e se ne va via con un fare molto spavaldo con la cintura sulle spalle sono veramente contento di questa vittoria di Becky se lo meritava passiamo poi al match per i titoli di copia di Raw Dolph Ziggler e Drew McIntyre che hanno sconfitto con successo Seth Rollins e Dean Ambrose questo forse è stato il match più lungo della serata un match molto lungo intenso a fasi un pochino soporifero però ci ha regalato davvero tante emozioni soprattutto sul finale e alla fine Dolph Ziggler e Drew McIntyre si sono dimostrati due grandi rapaci perché sono riusciti a strappare la vittoria in un momento in cui sembrava che non ci sarebbero potuti riuscire quindi conservano con successo i titoli di copia di Raw poi passiamo al match per il titolo WWE AJ Styles contro Samoa Joe AJ Styles che conserva con successo il titolo WWE al termine di un match lungo, intenso e abbastanza ben combattuto sul finale AJ nel mentre che è stato sottomesso nella cochina clutch è riuscito a effettuare una sorta di capriola al contrario intrappolando Samoa Joe in una specie di roll up molto rocambolesco neanche roll up una sorta di schienamento molto particolare nel mentre che eseguiva la cochina clutch solo che nel mentre che l'arbitro stava contando quando stava per battere a terra per il conto di tre AJ con una mano stava picchiando sul braccio di Samoa Joe per cedere quindi l'arbitro ha decretato la vittoria per AJ però dal replay si evince che AJ nel mentre che stava schienando Samoa Joe nel contempo stava cedendo infatti poi più tardi nella serata Samoa Joe è andato a lamentarsi nel backstage da Paige la quale gli ha concesso una rivincita per Super Showdown e molto probabilmente in questa rivincita ci sarà finalmente un netto vincitore perché è molto probabile che questa rivincita non prevederà né count out né squalifiche né niente sarà un match dove ci sarà per forza un vincitore comunque AJ Styles conserva il titolo da WWE passiamo poi al match a coppie miste Daniel Bryan e Bribella contro Demise e Maryse questo veramente sembrava molto scontato come match invece alla fine a sorpresa sono riusciti a vincere Demise e Maryse un match che sinceramente non mi ha emozionato per niente così come tutta questa rivalità tra loro che onestamente a me non ispira comunque alla fine riescono a vincere in modo furbo però in sostanza pulito Demise e Maryse con schienamento di Maryse su Bribella quindi la rivalità tra Daniel Bryan e Demise continuerà però per il momento mettiamo un bel 2-0 in grande passiamo poi a Ronda Rusey contro Alexa Bliss il penultimo match della serata valevole per il titolo Family Day Row Ronda Rusey ha mantenuto con successo il titolo ma dopo un match molto lungo e molto faticoso finalmente abbiamo visto una Ronda che combatte che riesce ad esprimersi al meglio con mosse di wrestling eseguite bene è un match che mi è piaciuto molto Alexa è arrivata davvero molto vicina alla vittoria solo che alla fine una volta che Ronda è riuscita a intrappolarla nella sua presa al braccio Alexa ha ceduto proprio appena è stata affrata al braccio subito ha ceduto immediatamente quindi peccato peccato perché è stato veramente un bellissimo match mi aspettavo una resistenza maggiore alla mossa finale di Ronda però vabbè si chiude qua presumo questa rivalità Super Showdown è già stato annunciato ufficialmente che Ronda Rusey assieme a a Natalia e poi poi non mi ricordo chi affronteranno tutti e tre i membri della Riot Squad ci sarà un 3 contro 3 scusatemi adesso il nome non mi viene in mente vabbè passiamo poi al main event ragazzi Roman Reigns contro Braun Strowman qui mollo il foglio dove c'ho scritti i match che c'erano che dire ragazzi Elin S.L. match valevole per titolo universale Mick Foley arbitro speciale questo match è stato una porcata assurda forse il main event peggiore degli ultimi anni un main event senza senso incasso fallito di Braun Strowman ma non perché ha vinto Roman Reigns ma perché è finito in un no contest sostanzialmente se fino ad ora abbiamo avuto tutti i match lunghi belli e interessanti arriviamo a questo main event con un hype buono pensiamo che possa esserci qualche cosa di interessante da annoverare una manovra d'alto impatto con Dolph Ziggler e Seth Rollins che una volta arrampicati a metà altezza della gabbia sono precipitati su due tavoli dei commentatori ragandoci un momento di grande impatto però nelle fasi successive c'è stato un momento in cui Roman Reigns e Braun Strowman dopo un sacco di botte che si sono dati erano a terra esausti al centro del ring e poi cosa succede? colpo di scena signori risuona la musica di Brock Lesnar io ho pensato che fosse uno scherzo invece no Brock Lesnar è tornato tra parentesi ma adesso che facciamo? dobbiamo rimettere Brock Lesnar in mezzo alla fai d'aprito universale quando dopo un anno e mezzo che non c'era mai finalmente ce lo siamo tolti senza offesa e adesso ne ritorna chiudiamo la parentesi arriva Brock Lesnar con un calcio sfonda la porta delle linee sell entra sul ring pesta di santa ragione Roman Reigns e Braun Strowman li lascia KO al centro del ring prende se ne va finito lì arrivano gli arbitri per soccorrere Roman Reigns e Braun Strowman il main event finisce qua in caso fallito o no contest ma io dico ragazzi ma la gente che paga il biglietto per andare lì che cosa paga? scusate per vedere queste cose ma per cosa lo paga uno il biglietto scusate uno che va all'arena uno che se lo compra che ne so su sky prima fila uno che se lo compra in qualche pay tv che c'è all'estero uno che si abbono al network scusate ragazzi ma i soldi per cosa li paghiamo? per beccarcela nel posto dove non batte il sole scusate la critica è però veramente ce ne vuole per rovinare un pay per view così questo pay per view si becca 3 stelle su 5 perché veramente non si può ragazzi non si può rovinare un main event così ci siamo liberati di un campione che non difendeva mai il titolo praticamente l'avrà difeso 5-6 volte contati in un anno e mezzo torna per far finire il main event in no contest io veramente non capisco non capisco che cosa succeda che cosa stia succedendo veramente che piani ci siano per super showdown ci saranno Roman Reigns ci saranno tutti e tre i membri di lo Shield Roman Reigns se trova in sede in embros contro Browns Roman Dolph Ziggler e Drew McIntyre quindi questa faida continuerà quindi dunque presumo che Lesnar sia tornato solo così per fare una comparsa spero però ragazzi non si può far finire un main event così non si può è una cosa indecente ragazzi io chiudo qua il video perché altrimenti qua finisce che che ne dico troppe basta quando ci vuole ci vuole mi dispiace io cerco di essere sempre educato e di dire le cose in modo onesto però mi fermo qua perché altrimenti devo inserire nel video i bip 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 eh capite il video termina qua spero che vi sia piaciuto lasciate un mi piace a questo video iscrivetevi al canale vi lascio in descrizione tanti altri video tra cui le analisi di Rolls Smackdown i pronosticidi di Linessell se li volete guardare o riguardare mi raccomando iscrivetevi anche sul mio profilo Instagram il volto del ring official scritto tutto in minuscolo tutto attaccato aiutatemi a far crescere questo canale per favore ve ne ringrazio infinitamente e appuntamento al prossimo video ciao ciao